Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi posizione del Fortnite numero 27 si trova in un punto della mappa nella posizione A4. Ragazzi siamo praticamente vicino a questo cespuglio, l'unico punto che vi posso dire come indicazione il quadrato A4 è questo e siamo esattamente qua! In questo punto ragazzi troverete il Fortnite numero 27! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live! Ciao! Ciao!